Musica La pesta, come avete visto dall'immagine, è andata alla grande, alla grande, alla grande nel senso meglio di così, secondo me, la prossima volta dobbiamo mettere due ristoranti quattro altre cose, dobbiamo ampliare lo spazio, dobbiamo chiedere un contributo extra a tutti i compagni, non bastate voi, ce ne vanno altri, non vedo manco tutti, sono tantissimi i compagni che ci danno una mano, che delle volte manco ce ne conoscemo uno con l'altro, nel senso vuoi dire, perché ci stanno tanti compagni che arrivano e ti danno una mano, nel senso vedi, delle volte manco i conoscemo, nel senso so, amici, parenti, compagni che, diciamo così, colleghi di lavoro, ragazzi che stanno con altri ragazzi, insomma, c'è questo incontro e questa pesta è diventata proprio, non lo so, ce la invidiano un po' tutti, quello che volevo dirvi è un grande grazie, grazie, grazie e soprattutto, perché dobbiamo fare pure quell'altra, non è che noi quell'altra non la fanno, nel senso, abbiamo fatto questa, l'altro anno arriviamo, l'altro anno arriviamo, soprattutto mi fa piacere ringraziare tutti quelli i compagni che non sono iscritti e so, vi giuro, delle volte di più di quelli che sono iscritti a darci una mano, questo non è un demerito quei compagni iscritti, anzi, evidentemente, mentre in tutta Italia, in tutto, diciamo così, lo stivale non siamo una grande attrazione, qui dobbiamo dire che bene o male siamo un'attrazione e sono andati bene anche i dibattiti e così abbiamo notato che comunque la gente c'era, a tutti i dibattiti, non tantissimi, non come quando vengono a mangiare, non quando comunque vanno a ballare, però, insomma, abbiamo discretamente, anche quella cosa siamo riusciti a riempirla e non lo so come dire altre cose, però credo che si può fare, nel senso, non è vero, io lo voglio dire soltanto con una frase, nel senso, noi stiamo in un periodo di crisi enorme, nel senso, prima le sezioni erano pieni di lavoratori, adesso sono pieni di disoccupati, gente che ha duemila problemi, non sa più che cazzo dobbiamo sbattere la capoccia, però non basta di tanto non ce la faremo, tanto non ce la potevamo fare, tanto non contiamo un cazzo, non è vero, nel senso, si dimostra che facendo le cose, mettendoci sede digna, no, se può fare di più, se può fare bene, se può fare che la gente ti riconosce quello che stai a fare, perché noi in ventesima non siamo andati male come in tutti gli altri posti di Roma, perciò significa che qualche cosa ha inciso, certo, ha inciso solo a Labbra la prima volta, poi a Cesano continuiamo invece i numeretti piccoletti, però perché sulla Cassia non ci siamo presenti, ma se avevamo 18 sezioni come ce l'aveva il Partito Comunista negli anni 70-80, io dico che probabilmente qualche risultatino in più ci poteva essere, i comunisti sono una marcia in più per la società, sono una marcia in più, perché i comunisti sono quella marcia che noi possiamo vedere nella storia, nel senso, c'è stato dagli anni 50 agli anni 80 questo cazzo di paese, c'è un Partito Comunista all'opposizione, manca il governo, stava all'opposizione, eppure abbiamo ottenuto diritti sui lavoratori, no, c'avevamo uno stipendio, c'avevamo una cosa, vuoi dire, c'era la salvaguardia dei lavoratori, rispetto di alcune forme, di alcune cose, insomma, vuoi dire, c'erano delle cose che oggi ce le hanno rilevate tutte, compreso le pensioni, nessuno pieta, non dormimo perché forse tutti pensano che noi faremo la rivoluzione quando la gente si muore di fame, non è vero un cazzo, non è vero niente, perché non ci fanno morire fame tutti allo stesso giorno, ci fanno morire fame, un pezzo, un pezzo, un pezzo, un pezzo, così ci hanno diviso e non fanno un cavolo, allora, bisogna essere solidali come i comunisti, bisogna organizzarsi e bisogna avere una pattuglia di comunisti dentro il Parlamento. Allora, chiudo, aspetta, 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 prima di dire, allora c'è, per i compagni che lo vogliono, se possono prendere un cd che è questa cosa che abbiamo, stanno lì davanti per tutti, chi lo vuole se lo può prendere e questo è un augurio per i compagni, è rosato apposta, perché non fare il timido diventa rosso, è rosato, perché non fare il timido diventa rosso, è rosato apposta.